Si erano impegnati anche a creare stickers dal contenuto offensivo e denigratorio utilizzando foto carpite dal profilo social o addirittura scattate all'insaputa della vittima. Per questo tre ragazzi minorenni di circa 15 e 16 anni coetanei della vittima prescelta e studenti del medesimo istituto scolastico sono stati ammoniti dal questore di Pescara per cyberbullismo. Il materiale appositamente realizzato veniva poi fatto circolare su alcune chat a danno della malcapitata minando nell'autostima la serenità e la socialità. Finché lo scorso 10 maggio un genitore della ragazza non ha denunciato l'accaduto alla polizia facendo scattare l'ammonimento per cyberbullismo nei confronti dei tre ragazzi come spiegato da Daniela Pasqua dirigente della divisione della polizia anticrimine di Pescara. Un provvedimento sempre che a natura come dicevo prima preventiva e serve appunto ad evitare che determinati comportamenti abbiano conseguenze ulteriori sia per la vittima ma anche per l'autore perché lo preserva da un eventuale processo penale e quindi non hanno neanche diciamo delle conseguenze perché l'ammonimento ovviamente che riguarda dei minori serve ripeto proprio ad assolvere una funzione monitoria e quindi poi educativa. Convocati dalla polizia con i rispettivi genitori i tre minorenni ammoniti sono stati invitati a cancellare il materiale denigratorio riguardante la loro coetanea e a non ripetere più le condotte incriminate per evitare di essere deferiti all'autorità giudiziaria. Un provvedimento dunque educativo in linea con le attività di incontro e di formazione dei giovani studenti nelle scuole portate avanti dalla polizia di stato e nello specifico dalla questura di Pescara al fine di educare i più giovani all'uso consapevole della rete come spiegato da Alessandra Bucci vicario del questore di Pescara. Quello di oggi è il primo caso di ammonimento del questore per cyberbullismo ma noi vogliamo che sia un caso isolato perché crediamo molto nella prevenzione quindi speriamo di non doverne fare più. Crediamo nella prevenzione e lo facciamo attraverso un'attività di formazione che riguarda tutte le scuole di ogni ordine e grado quindi dalle elementari alle scuole medie ai licei e alle scuole superiori. Crediamo che una cultura del rispetto anche del prossimo e quindi del proprio compagno nasca attraverso un'educazione costante da parte dei genitori sicuramente, degli insegnanti e perché no anche da parte nostra.